Continua ad essere attivissimo il notaresco del presidente Salvatore Di Giovanni che piazza un altro autentico colpo da 90. Si tratta dell'attaccante esterno argentino Ezequiel Banegas, visto in Abruzzo dal 2017 al 2019 con la maglia del Francavilla. E' fortemente voluto notaresco proprio dal DS Paolo Dercole, ex dirigente giallorosso. A Francavilla si è messo in evidenza con 21 gol in 60 partite. Lo scorso anno è stato ad Andria e poi a Prato, un acquisto che dà ulteriore spessore alla Rosa Rosso Blu, dopo gli innesti di Dos Santos, Bianciardi, Lattarulo e Simoncini, la permanenza di Frulla ed una serie di altre conferme annunciate dal club nelle ultime ore. Intanto quella dell'ex difensore del Francavilla, Matteo Gallo, pronto a disputare la sua seconda stagione consecutiva notaresco, 18 presenze, delle quali 9 da titolare lo scorso anno. Il terzino destro classe 2000, Riccardo Di Stefano, prodotto delle giovanili della Lora San Nicolò, lanciato in D proprio dal tecnico Massimo Epifani nel campionato 2016-2017. Pronti alla terza stagione consecutiva notaresco, l'attaccante esterno classe 2000, Nicolo Cancelli, già 37 presenze complessive in rosso-blu con tre reti, e il centrocampista campano classe 2001, Giovanni Bosco Blando, per lui già 49 gettoni con la maglia del notaresco. E poi altri due prodotti del settore giovanile e locale, i difensori Jacopo Di Saverio, 2002, e Matteo Sorrini, 2003. Non sta a guardare il Pineto, altra società attiva ed ambiziosa, che nella giornata di ieri ha annunciato l'arrivo di Giuseppe Nicolao, terzino sinistro, autore di una ottima stagione passata ad Agnone, e che in carriera vanta anche un debutto in Serie B a Lanciano, e tante presenze in C con le maglie di Melfi, Ancona, Viareggio e Alessandria. E nelle prossime ore, nuovo colpo in procinto di essere ufficializzato dal duo Brocco-Giammarino, il centrocampista offensivo Cosimo Palumbo, ex Francavilla e Vastese. Passi in avanti anche della matricola Castelnuovo, che annuncia altre tre conferme rispetto al campionato di eccellenza vinto nell'ultima stagione, il difensore classe 2001 Daniele Di Loreto e i centrocampisti Mattia Foglia, 99, e Leonardo Emili, 2001. A Vasto, risolta la situazione societaria, sono stati posti i primi tasselli, l'arrivo del tecnico Massimo Agovino e del dirigente Maurizio Sabelli, che assieme al confermato di esse Nicola Dottavio compongono un trio ex agnonese, che può essere garanzia di un lavoro svolto in grande armonia. Ora si passerà all'allestimento dell'organico, che passa intanto dall'annuncio di due importanti conferme, i difensori Mattia Altobelli e Nicola Di Filippo, entrambi tesserati lo scorso mese di dicembre dalla società aragonese. Situazione che sembra ancora in alto mare a Giulianova, mentre Chieti e Avezzano continuano a sperare nella Serie D e intanto arricchiscono la loro rosa. Il Chieti ha tesserato il centravanti Luca Fabrizi, ex L'Aquila, Giulianova e Castelnuovo. Ad Avezzano sono approdati il centrocampista Cristiano Verna, fratello di Luca, giocatore della Ternana, l'attaccante Ilario Lepre, un ritorno, e il difensore ex Teramo Mattia De Fabritis.